Buongiorno a tutti e benvenuti sul mio canale YouTube dedicato ai sistemi di sospensione per ascensori. Io mi chiamo Nicolai Mbimbo e quelli che stiamo per andare a vedere è l'estrazione della mia presentazione al webinar UNI dedicato alla specifica tecnica UNITS 11807 relativa ai criteri di scarto per le funi per ascensori, di cui sono stato il relatore nonché uno dei coordinatori. Vi attendo al termine di questa presentazione per i commenti conclusivi. A dopo. Grazie e buona visione. Buongiorno a tutti. Il capitolo a me assegnato è quello relativo all'uso, la manutenzione e i criteri di scarto delle funi. Io sono, come è stato detto, il relatore della UNITS 11807 e il mio intento in questa breve presentazione è quello di portarvi all'interno di questi criteri e cercherò di farlo nella maniera più grafica e visuale possibile. Per fare questo ho riassunto in questa tabella quelli che sono i requisiti dei vari metodi di valutazione che sono contemplati nel prospetto 1 che trovate all'interno della specifica tecnica. Il prospetto 1 innanzitutto ci dice che una delle prime verifiche che dobbiamo fare è la misurazione del diametro della fune. La misurazione è un parametro importante che va sempre effettuato perché una riduzione al di sotto del 6% rispetto al diametro nominale della fune comporta automaticamente lo scarto della fune stessa. Se questo a condizione si verifica non abbiamo la necessità di fare nessun altro tipo di verifica. La fune è da scartare immediatamente. Un altro dei metodi, il secondo dei metodi di valutazione è quella dell'ispezione visuale della superficie della fune e i criteri sono contemplati al capo 6 di questa specifica tecnica. Ci sono tutti i vari criteri di scarto. La terza metodologia di valutazione è quella di beneficiare del controllo magnetoinduttivo, qui vedete lo indicato come opzionale, quindi se si vuole applicare lo si applica. Nel caso in cui venga applicato deve essere fatto in conformità all'appendice A di cui vi parleranno a breve i miei colleghi. Il metodo magnetoinduttivo si può declinare in due modalità. In una prima modalità, passatemi il termine in qualità di legnetto elettronico, diciamo così, che quando il detector passa su una parte difettata emetterà un avviso sonoro oppure si illuminerà un LED e il manutentore in autonomia rileverà queste cose e potrà dare un giudizio dello stato di conservazione della fune. Oppure una seconda modalità con l'interpretazione del tracciato magnetoinduttivo, interpretazione che può essere fatta però da persona dotata della qualifica di secondo livello delle proie non distruttive. Tenete a mente questa fotografia perché ce la porteremo avanti in questa breve presentazione. Sarò sintetico ma cercherò di darvi tutti gli elementi necessari perché quando parleremo del report di ispezione dei funi questi concetti ci torneranno. Procedendo nella nostra specifica tecnica, un parametro molto importante è l'equo tensionamento del set delle funi, dove vi leggo il requisito, si definisce che è un set di funi equamente tensionato quando il carico misurato sulle singole funi non è maggiore del più o meno 5% rispetto al valore medio. Valore medio che è quello che vi ho indicato qui con la linea tratteggiata e vedete che la banda di tolleranza è piuttosto ristretta. È importante che le funi siano equamente tensionate perché questo influisce sia sulla vita utile delle funi sia sull'efficacia e l'efficienza del funzionamento dell'impianto ascensore. Quindi vi conserva le caratteristiche meccaniche delle pulegge, il comfort di viaggio e tutte le caratteristiche meccaniche. Il sistema di ecotensionamento è un sistema iterativo, è un metodo iterativo. Perché iterativo? Perché voi regolate il tensionamento delle funi agendo sui tiranti dei capi corda e quando effettuate l'equotensionamento voi tensionate il ramo di fune dal capocorda fino alla prima puleggia. Non andrete oltre la prima puleggia. Allora che cosa dovete fare? Dovete far fare un paio di viaggi in salita e in discesa all'ascensore per fare in modo che l'equotensionamento venga adeguatamente diluito su tutta la lunghezza della fune. A questo punto ritornate al via, come si dice, ripetete quest'operazione due, tre, anche quattro volte fino a quando non noterete che l'equotensionamento si è stabilizzato. Nel momento in cui si è stabilizzato il vostro lavoro è concluso, come si suol dire, fino alla prossima volta. Perché il tensionamento delle funi tende a variare nel tempo. Dobbiamo occuparci a questo punto di che cosa ci dice il capo 5.5, estensione della verifica. Le funi oggetto alla presente specifica tecnica devono essere ispezionate visivamente per la loro intera lunghezza ed eventualmente mediante la prova magnetoinduttiva per la parte tecnicamente ispezionabile. Vedremo a breve che non tutta la lunghezza di fune può transitare sotto il detector. Particolare attenzione deve essere posta alle seguenti zone. Le sezioni in prossimità degli attacchi terminali e le sezioni che passano più frequentemente su una o più puleggie. Cosa dobbiamo fare in definitiva? Armarci nel nostro bel calibro, andare a misurare il diametro nel tratto di fune che riteniamo essere quello più stressato e tra poco vi spiegherò come potete fare a identificarlo o al tratto di fune che manifesta le maggiori criticità. A questo punto andiamo a fare una verifica visuale della lunghezza della fune e ci concentreremo in particolar modo sui tratti terminali tratti nei quali la fune entra nei capicordi perché la fune durante il funzionamento accumula vibrazioni, torsioni che si andranno tutti a scatenare nel terminale. Terminale nel quale potrete trovare un accumulo di fini rotti o addirittura la rottura di un trefolo intero. Questa fotografia è tratta da uno dei sopralluoghi che ho fatto sul campo. Frequenza di questa verifica. La frequenza è definita dal DPR 162 del 99 che andiamo a leggere e semplicemente dice il manutentore provvede almeno una volta ogni sei mesi per gli ascensori e almeno una volta all'anno per i montacarichi a verificare minutamente le fune, le catene e i loro attacchi. Quindi discriminiamo immediatamente che il manutentore, l'individuo che deve definire se la fune può continuare a stare in esercizio o se deve essere rimossa dall'esercizio. Lo deve fare ogni sei mesi per gli ascensori, una volta all'anno per i montacarichi. Nella specifica tecnica abbiamo definito anche la periodicità dei controlli magnetoinduttivi e questa periodicità nel caso in cui vogliate effettuare il controllo magnetoinduttivo è definita con cadenza biennale per i primi dieci anni di vita delle funi e successivamente con periodicità annuale. Si raccomanda inoltre l'effettuazione della prova magnetoinduttiva all'atto dell'installazione delle funi o perlomeno alla prima occasione utile dalla quale intendete avvalervi di questa prova magnetoinduttiva. La prova magnetoinduttiva è un esame evolutivo quindi di volta in volta manifesterà delle sezioni sempre più amplificate dove dovrete andare a cercare i criteri di scarto. Più è alto il rumore di fondo più è probabile che in quei punti troverete dei criteri di scarto che vi aggiungeranno nella valutazione del criterio. Per quanto concerne il criterio di scarto delle funi ho cercato di consolidare tutto in un'unica slide e il capo sesto è riportato in questa immagine. Le funi sono generalmente scartate per usura e fili rotti ma altri fattori come la riduzione del diametro, la corrosione e la deformazione permanente possono dare origine allo scarto. Quindi bisogna fare una valutazione complessiva. All'interno del capo sesto trovate due prospetti molto interessanti. Il prospetto 2 dedicato alla numerosità dei fili rotti che discriminano lo scarto. Una nota molto importante, questo prospetto discende dall'appendice E della ISO 4344 che è l'unico riferimento normativo in vigore che riporta dei criteri di scarto dedicati alle funi per ascensori. Poi c'è il prospetto 3 dove ci sono i criteri di scarto per corrosione dove viene dettagliato qual è il livello di corrosione al quale bisogna arrivare allo scarto delle funi. Questi due prospetti sono corredati da una serie di immagini per dare compiutezza a quello che vi stanno comunicando e sulla base di questo riteniamo che i criteri di scarto possano essere adeguatamente valutabili da chi studia questa specifica in dettaglio. Vediamo qual è il tratto maggiormente sollecitato e stressato della fune. Tipicamente è questo tratto rosso che si trova all'ingresso della puleggia di frizione quando la cabina è al piano più frequentato che è generalmente il piano terra. Non appena la cabina tende a partire in salita questo tratto transita immediatamente sulla puleggia di frizione e sulla puleggia di rinvio. È giocoforza che i criteri di scarto si presenteranno in prima battuta su questo tratto di fune che è quello più stressato. Analogo ragionamento per il tiro 2 a 1 il tratto evidenziato in rosso è quello che sarà più stressato di tutti perché appena la cabina parte in salita fosse anche per una sola fermata questo tratto rosso transita sulla puleggia di frizione e sulla puleggia il contrapeso. Quindi è lì che andremo quasi sicuramente a trovare i nostri criteri di scarto. Ora immaginiamo di posizionare il detector sulla parte uscente della puleggia di frizione e di fare una corsa in salita fino ad arrivare al piano più alto. Il tratto che ho identificato in verde è quello che transiterà all'interno del detector e cosa buona ci transita anche il tratto maggiormente stressato della fune che quindi verrà analizzato dal detector. I tratti di fune non colorati devono essere assoggettati a un supplemento di indagine perché non sono transitati sotto il detector e vanno visualizzati con attenzione. Inoltre vanno esaminati con attenzione anche i punti terminali per quello che abbiamo discusso in precedenza. In questo caso mettiamo il detector in prossimità della macchina perché ci riusciamo. Immaginiamo invece di non riuscire a posizionarlo in prossimità della macchina per varie ragioni, perché è un MRL, perché non ci arriviamo, per qualunque ragione essa sia, ci posizioniamo sul tetto di cabina col nostro detector e facciamo una corsa in discesa. Se effettuiamo questa operazione il tratto di fune spezionato è quello verde, che ho evidenziato in verde, e quindi su questo possiamo emettere una valutazione col metodo magneto induttivo, tutto il resto non è transitato, il nostro tratto rosso non è transitato all'interno del detector e va assoggettato a un supplemento di indagine per completare l'analisi che abbiamo fatto. Allora, fatto tutto questo escursus, arriviamo al rapporto di verifica. Il rapporto di verifica deve essere compilato dal manutentore. All'interno di questo rapporto di verifica dobbiamo inserire tutti gli elementi che abbiamo visto in precedenza, e cioè la misurazione del diametro nel tratto più danneggiato, nel tratto più stressato, gli esiti dell'ispezione visuale e gli eventuali esiti dell'esame magneto induttivo. Qui ho riportato degli schemini che non sono richiesti dalla specifica tecnica, ma nel caso in cui vogliate fare un documento veramente completo, sarebbe buona pratica riportare qualche schema di massima indicando i tratti ispezionati, i tratti dove avete trovato delle difettosità a completamento di quest'opera. In ogni caso, il capo 7.1 vi dice che cosa deve essere incluso in questo rapporto di verifica e quindi date il luogo della verifica, riferimenti di impianto, caratteristiche, tipologia della fune, costruzione, tipo di attacchi, eccetera eccetera, non vi annoio ulteriormente, esito della verifica, quindi funi da scartare o meno, nome, firma di chi esegue la verifica. Quindi il manutentore che ha effettuato questa verifica e ha collezionato tutti questi alimenti, compilando il rapporto deve apporre anche la sua firma in fondo a questo documento. Un passaggio rapidissimo sull'appendice A, in quanto il tema a me assegnato è quello dei criteri di scarto delle funi, in quest'ottica il paragrafo di generalità ci dà delle buone indicazioni che vi vado a leggere. La prova magnetoinduttiva applicata al campo sensoristico è utilizzata come ausilio alla valutazione complessiva dello stato delle funi in servizio e tale prova integra l'esame visivo essendo in grado di fornire utili informazioni anche sulla condizione interna della fune, reputo che questo sia importante ai fini della nostra valutazione. Tramite tale misura di tipo qualitativo possono essere rilevate le discontinuità e o variazioni dell'area della sezione metallica delle funi ferromagnetiche. Quindi ritengo che siano elementi importanti per poter arrivare poi a discriminare i nostri criteri di scarto. Arriviamo all'appendice B e quindi alla mia ultima slide, ho promesso di non essere troppo lungo ma cercando di darvi gli elementi fondamentali. L'appendice B che è informativa e molto importante dal mio punto di vista perché vi dà delle indicazioni di corretto utilizzo, sbobinatura e manutenzione delle funi, elementi che non vanno sottostimati perché se le funi non vengono gestite, trasportate, stoccate, sbobinate, installate nella maniera corretta, voi rischiate di danneggiare in maniera permanente la fune prima ancora di essere installata. Nel momento in cui la installate la fune è già presente ai criteri di scarto perché sbobinandola avete creato un occhiello e una deformazione permanente. Quindi è molto importante sbobinare adeguatamente la fune e queste indicazioni dell'appendice B sono fondamentali dal mio punto di vista. Un'altra nota che vi voglio fare sull'appendice B è quella della rilubrificazione dei funi in esercizio, questa sconosciuta fondamentalmente. Tenete conto che rilubrificare la fune non significa che slitterà in esercizio, bisogna chiaramente utilizzare un lubrificante adeguato alle applicazioni per frizione, che sia compatibile con il lubrificante originale prodotto dal fabbricante della fune e che questa rilubrificazione venga fatta con i giusti metodi, le giuste quantità, quando la fune si presenta secca al tatto. Nell'appendice B poi troverete altre utili informazioni su come applicare il lubrificante, quali sono le modalità eccetera eccetera. In questo caso volevo soltanto darvi uno spot. In conclusione vi ho fatto un nodo alla fune semplicemente per sperare che questo vi aiuti a ricordare tutti gli elementi che abbiamo toccato, chiaramente non fate nodi sulle funi, questo è soltanto per ridere all'atto pratico, due considerazioni finali in definitiva. Considerate i criteri di scarto non come degli scienziati missilistici, ma i criteri di scarto sono degli elementi che vanno a completare la vostra analisi, che deve essere una valutazione olistica di tutto il vostro impianto sensoristico, perché all'atto pratico voi dovete tenere in conto di tutta la gestione della fune, della sbobinatura, dell'installazione, l'equotensionamento, la rilubrificazione e poi andare a identificare i vostri criteri di scarto. Il secondo ragionamento che vi porto è quello del verbale di ispezione, il vostro verbale di ispezione conclusivo deve riportare dentro tutte le osservazioni che avete fatto, misurazione del diametro, osservazioni visuali, l'eventuale report del rapporto magneto induttivo, perché tutti insieme vanno a costituire quella che è la vostra valutazione della fune. Soltanto un elemento da solo non può darvi le evidenze per poter scartare o tenere in esercizio una fune, quindi il report magneto induttivo è un documento di una valutazione complessiva, da solo non è sufficiente, deve essere, deve fare parte di un documento più completo. E con questo spero di avervi trasmesso tutto e a questo punto mi fermo e cedo la parola ai colleghi. Grazie. Bentrovati. Spero che a seguito di questa presentazione vi siano ora più chiari i contenuti della specifica tecnica UNITS 11807. Chiaramente un webinar non è sufficiente per discriminare con dettaglio i contenuti di questo documento, dettagli che possono essere approfonditi tramite specifici corsi di formazione. Se siete interessati ad approfondire queste tematiche, contattatemi tramite i miei canali di social network oppure riferimenti che vi lascio qui di seguito. Grazie, a presto. Grazie.